Da Brindis alla provincia di Pisa per mettere a segno diversi colpi, rapinatori in trasferta, così li hanno definiti i carabinieri che li hanno tratti in arresto dopo una breve ed intensa attività investigativa. Erano arrivati a Ponzacco dopo Ferragosto, ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, tre dei quali con precedenti penali. Il primo colpo la notte del 21 in un distributore di Viale Valdera a Ponzacco, uno dei pochi ancora senza telecamere di sorveglianza, vittima a un ventenne derubato dell'auto, soldi iPhone, rapina nel corso della quale i cinque avevano esploso o anche un colpo di pistola. Due giorni più tardi lo scippo violento ai danni di una disabile a Fornacette, azione notata da un operatore del Corpo Guardia di Città, la cui testimonianza è stata essenziale per le indagini. L'indagine ha preso il via grazie all'acume investigativo di alcuni militari che, stando costantemente sul territorio, ha notato la macchina che era stata vista su uno dei due eventi delittuosi perpetrati il giorno 21 agosto e questo ha consentito di individuare i soggetti, di entrare nella loro abitazione, di trovare tutte le armi da fuoco, nonché materiali per il travisamento, che ha consentito poi di trarli in arresto e successivamente di effettuare un fermo di indiziato di delitto per la rapina effettuata ai danni del giovane ventenne e sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se questi soggetti abbiano perpetrato altri efferrati delitti sul territorio. Il blitz è scattato dunque nella casa di Ponzacco in via Mazzini. Due hanno cercato in vano la fuga sui tetti. Nell'appartamento e poi nella vettura i militari hanno sequestrato una pistola semiautomatica, una gas, un silenziatore, coltelli nonché passamontagna e guanti in lattice. A finire in manette Damiano e Andrea Russo, Nicola Totoro, Antonio delle Grottaglie, tutti nati a Mesagna in provincia di Brindisi e residenti a Torre Santa Susanna. Qui residenti anche Manuel Camarda, nato però a Pontedera. Perché avevano scelto la provincia di Pisa? Avevano scelto la provincia di Pisa perché uno di questi ha i genitori che hanno un'abitazione nel comune di Ponzacco e infatti loro sono stati poi arrestati proprio nell'abitazione dei genitori di uno di questi cinque.